Al meeting Alice di Manduria quest'anno il cuore palpitante del progetto Invictus Camp presentato dal sindaco di Marugio Alfredo Longo. Marugio ospiterà la struttura dopo un video molto incisivo. Il sindaco ha illustrato il progetto. Io rappresento qui la fondazione Vanni Longo che è l'ente del terzo settore che ormai da quattro anni lavora alla realizzazione di questo bellissimo progetto appunto dell'Invictus Camp. L'Invictus sarà il primo camp di terapia ricreativa del Mezzogiorno Italia destinato a ospitare gratuitamente bambini con patologie onquematologiche, genetiche o cronico-gegneranative. E quindi rispondiamo alla prima domanda, chi siamo? Beh, siamo decine di associazioni, di professionisti, di aziende, di uomini di scienza che hanno deciso di investire parte del loro tempo e delle loro risorse per un progetto tanto complicato quanto meraviglioso. Un progetto ormai prossimo alla fase realizzativa con i cantieri pronti ad aprire entro l'estate. Un progetto al quale, come ben sapete, Telerama è molto vicino. Longo ha tra l'altro raccontato che sono oltre 10.000 bambini in Italia affetti da patologie che li costringono a una vita difficile. Bisogna offrire a questi bambini un'esperienza diversa da quella che vivono nei reparti ospedalieri. Questo è l'Invictus Camp, un luogo dove poter soggiornare gratuitamente per una settimana all'anno e sottoporsi ad un nuovo tipo di terapia, la terapia ricreativa. La terapia del gioco, composta da decine di attività diverse come la pet therapy, la clown therapy, la dance ability, l'arte terapia, gli sport inclusivi e tanto tanto altro che possono far sentire anche il bambino che ha delle patologie più felice, più autonomo, più sicuro di sé. E qui l'invito a tutti a riflettere, a impegnarsi. Ci vogliono 2 milioni di euro per realizzare la struttura. Uno per gestirla nei primi tre anni, ha detto il sindaco Longo. Abbiamo già 500.000 euro. Entro fine estate inizieremo la realizzazione. Grazie a tutti.